Ciao, sono Maria Razzonelli e sono la candidata presidente per la settima circoscrizione di Palermo con il Movimento 5 Stelle. Oggi mi trovo qui per presentare quella che è la pagina dei candidati alla settima circoscrizione. Attraverso questa pagina potrai metterti in contatto diretto con noi e noi avremo la possibilità di mostrarti quelle che sono le possibili soluzioni per i quartieri all'interno della circoscrizione, le denunce delle problematiche e ti daremo anche la possibilità attraverso dei sondaggi di metterti in gioco cercando di aiutarci a trovare le possibili soluzioni. Quindi quello che ti chiediamo è di partecipare attivamente mandandoci anche dei messaggi con video e fotografie rispondendo ai nostri sondaggi e a quelle che sono le soluzioni che ti prospettiamo.